Adesso andrò a fare con Flowgorytm un'applicazione che determina il numero maggiore tra tre numeri dati. In questa applicazione l'utente inserisce tre numeri e l'applicazione capisce e stampa a video il numero maggiore. Quindi parto con la dichiarazione dei tre variabili. Per dare l'istruzione bisogna fare all'utente. Per dare l'istruzione bisogna scrivere. Per dare il numero. Ora input in uno, input in uno, input in uno, input in tre. Ok, quindi abbiamo dichiarato. Abbiamo messo output così stampa video all'utente l'istruzione di quello che deve fare. Quali sono i tre numeri e poi l'utente li inserisce. Ora bisogna iniziare col primo se. Nel primo se la condizione è num1 maggiore di num2. Se è vera andrà di qua, se è falsa andrà di là. Quindi num1 è maggiore di num2. Però ce ne abbiamo tre variabili. Quindi qua bisogna metterci un altro se. Per vedere se num1 è maggiore di num2. Quindi se num1 è maggiore di num2. E num1 è anche maggiore di num3. Il numero maggiore tra i tre variabili è num1. Quindi stampa video num1. il numero della variabili è num1. Se invece è falsa, in questo se qua, num1 è maggiore di num3. Se è falsa vuol dire che num3 è maggiore di num1. E num1 è maggiore di num2 e num3 è maggiore di num1. Quindi num3 è anche maggiore di num2. Quindi qua bisogna stampare num3. Perché supponiamo che num3 è 6. Num1 è 5. E num2 è 4. 6 è maggiore di 5. E 5 è anche maggiore di 4. Quindi il più grande è il massimo maggiore di num3. Se invece num1 non è maggiore di num2. Bisogna vedere se num2 è maggiore anche di num3. Quindi se num2 è maggiore di num3. qua num1 è maggiore di num2. Quindi num2 è più grande di num1. Se è anche più grande di num3. Il numero maggiore è num2. num2 è maggiore di num2. e num2 è maggiore di num1. Perché nel ramo falso. Quindi questo è il contrario. Quindi num2 è maggiore di num1. Ma num3 è maggiore di num2. E' la stessa cosa di qua. Quindi nel ramo falso ci va messo num3. num3. E' questa qua l'applicazione. La proviamo. Qua ci sono le tre caselle, le tre variabili. Quali sono i tre numeri? 4, 3 e 5. Num1 è 4. Num2 è 3. Num3 è 5. Il numero maggiore è 5. Ora riproviamo. Il massimo è 5. Non 1 è 5. Non 2 è 4. Non 3 è 3. Il maggiore è 5. Proviamo anche con numeri più alti. Per esempio. 100. 200. E' 40. No. Maggiore è 200. Però. In questo modo. L'applicazione. In due modi. Quindi per due strade. Arriva. All'output di num3. E per evitare. Di avere. queste quattro risposte. Si potrebbe. Accorciare. L'applicazione. Quindi. Adesso. Andiamo. Per un nuovo logaritmo. Ok. E la facciamo. La stessa applicazione. Quindi questa qua. Però più corta. Quindi. Quando. Stampa solo. Una volta. Num3. Quindi no. Se va in questa strada. Di qua. Quindi. Se questo è vero. E questo è falso. Stampa num3. Se questo è falso. Num3. Num3. Viene stampato. Solo. In una condizione. Ora. Lo proviamo. Che forse si capisce meglio. No. Ok. Ora. Bisogna sempre dichiarare. Le tre variabili. Di tipo intero. Bisogna dare l'istruzione. All'utente. Facciamo così. Per evitare di scriverlo. Mettiamo questi qua. Questi qua. Così c'è il confronto. E facciamo. Questa. Lo copiamo. Lo incontriamo. Lo incontriamo di qua. Copiamo. Lo incontriamo anche questo. Così ho evitato di riscriverlo. Qui. C'è un if. Che a differenza di qua. Dove controlla solo. Una varia. Una condizione. Di qua ne controlla due. Con. Con. L'operatore. Che il vostro prof. Vi spiegherà meglio di me. Però. Se la conoscete già. Capirete anche questo. Quindi. Num1. Maggiore. Di. Due. Num1. Di. Num3. L'e commerciale. Unisce. Queste. Due. Condizioni. E quindi. L'if. Andrà. Ehm. Uscirà dalla parte. Vera. Se tutte e due. Condizioni. le condizioni sono vere, se invece anche solo 1 è falsa, andrà nel ramo falso, se tutte e due sono false, allora andrà nel ramo falso, quindi per andare nel ramo vero devono essere tutte e due le condizioni vere, quindi numero 1 deve essere maggiore di numero 2 e numero 1 è maggiore di numero 3, quindi se numero 1 è maggiore di numero 2 e numero 3, il numero maggiore è numero 1, quindi stamperà a video il numero maggiore che numero 1, se no bisogna controllare le altre due, in qual modo, se numero 1 è una delle due di queste qua è falsa, quindi num1 è minore di num2, num3 sarà anche minore di num2, quindi in questo if qua bisogna controllare se num2 è maggiore di num1 and num2 è maggiore di num3, quindi se il numero maggiore num1 non è più grande di num2 e non è più grande di num3, una delle due, o num1 se tutto è due, allora suppone il ramo falso, c'è anche solo una delle due, quindi num1 o non è più grande di num2 o non è più grande di num3, va qui, controlla se è 2 il numero maggiore, se tutte e due sono vere, quindi num2 è maggiore di num1 e di num3, allora il numero maggiore è num2, invece se sia questa qua è falsa, anche solo una delle due condizioni è falsa, ma nel ramo falso anche solo una di queste due è se è falsa, allora il numero maggiore è num3, andiamo a provare, con le tre finestre, ok, quali sono i tre numeri? 6, 5 e 7, stampa già 7, ok, num1 è 6, num2 è 5, num3 è 7, ora andiamo a vedere, quindi il numero maggiore è num7, cioè è num3, la variabile num3 che ha come numero 7, quindi il numero maggiore è tra questi tre, è 7, andiamo a vedere passo passo, poi un altro numero, lì la dichiarazione delle variabili, l'istruzione per l'utente che viene stampata, qui sotto, la prima variabile mettiamo 200, seconda variabile 356, terza variabile 234, ora controlla queste condizioni, num1 è maggiore di num2? num1 è maggiore di num2? No, quindi anche solo per quella lì va nel ramo falso, perché anche solo se è una delle due va nel ramo falso, num1 è maggiore di num3? No, quindi assolutamente va nel ramo falso, ok, quindi nel ramo falso controlla quelle due condizioni qua, num2 maggiore di num1? Sì, num2 maggiore anche di num3? Sì, e quindi stampa num2, e finisce, quindi numero maggiore è questo, ed è giusto, e in confronto a questa qua, vedete che qua ce ne sono tre if, qua ce ne sono solo due, qua ci sono, vengono stampate, quattro, ci sono quattro blocchi di output, e sono tre variabili, e quindi ne bastano tre blocchi di output per stampare, stampare tre variabili, ed è anche più corta, perché qua ci sono appunto tre if, qua ce ne sono solo due, e quindi queste le applicazioni, tutte e due hanno lo stesso scopo e lo raggiungono, quindi funzionano, questa a sinistra è più corta, contratta, ha un comando in più, che è end, e permette appunto di controllare due variabili, quindi allo stesso tempo di accorciare l'applicazione.